Amici di Football is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, come potete vedere, sì, ho anche la maglia dell'Arabia Saudita. Ho anche la maglia dell'Arabia Saudita. Bene, dopo dieci volte che l'ho detto, mi sembra di capire, penso che abbiate capito che sì, ho anche la maglia dell'Arabia Saudita. Comunque, a parte questa introduzione, video sul fantacalcio, come è andata il fantacalcio, come è andata la giornata del fantacalcio della mitica Via Tasso Fudal Club. Sto sprofondando. Questa è una di quelle partite dove, per mezzo punto, per un ciuffo d'erba, per un pelo di figa, per un granello di sabbia, ditelo come volete, non ho vinto. Via Tasso Fudal Club, AC Dolattico, derby di famiglia, 2 a 2, 77 punti e mezzo contro 72. Una roba che mi fai sprofondare. Comunque, a parte questa intro, iniziamo un po' a vedere il punteggio delle due squadre, ed iniziamo dal mio avversario, dal AC Dolattico, che ha totalizzato 72 punti. Di questi 72 punti, Siriguo 4, meno 2 per i due gol subiti, Toloi 6, meno mezzo punto per il cartellino giallo, Pezzella 5 e mezzo, Di Lorenzo 5, Pessina 9, gol ma è stato anche ammonito, Freuler 6 e mezzo, Fabian Ruiz 5, Kulusevski 10 per il gol, 10 anche Simeone per il gol, Mertens 5, Gabbiadini 6. Passiamo adesso alla mitica Via Tasso Fudal Club, che come vi ho appena detto ha totalizzato 77 punti e mezzo. Di questi 77 e mezzo, Gollini 7, più 1 perché finalmente fa un clean sheet, l'unica cosa che mi fa incazzare dell'Atalante, che gioca bene, una bella squadra, la più bella d'Europa, ma prende sempre gol e ho sempre un 1 al fantacalcio perché io ho Gollini. Castagne 6 e mezzo, Gosens 10 per il gol, Muldur del Sassuolo 10 per il gol, Oh, t'ha segnato Muldur! Amrabat 6, Lazare 6 e mezzo, Ansaldi 5 e mezzo, Mkhitaryan 5 per l'ammunizione, meno mezzo punto sarebbe stato un 5 e mezzo, invece lui no, si fa ammonire come un pirla, tra l'altro anche quando era in panchina, ma anche quando stava giocando! Con il mio panchino cazzo! Dzeko 5 e mezzo, Ibraimovic 6, Il Gallo Belotti 9 e mezzo. Va bene ragazzi, questo è stato un po' il riassunto della mia ultima giornata del fantacalcio, fatemi sapere cosa ne pensate, come al solito invito a iscrivervi al canale YouTube, a seguirmi su Facebook, a seguirmi su Instagram, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace, a dirmi se giocate al fantacalcio, qual è la vostra squadra, come state andando, a spammare questo video poi in ogni singolo punto del planisfero, detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!